Benvenuta, come ti chiami? Agostina Agostina, da dove vieni? Sono argentina, ma vivo a Vicenza Ah, ok, e perché sei qui? Sono qui per fare un numero un po' pericoloso Spero che vada bene, perché da un po' che non lo faccio Eh, speriamo In bocca al luebo Tantissimo pericolo quest'anno, eh Attenzione, ecco Ah, guarda È un po' che non lo fa, quindi Occhio Mamma mia! Adio, mamma mia! Grazie a tutti! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Giusto? Sei stata molto brava a un certo punto, sembrava che le braccia e le gambe avessero un'anima proprio e andassero per conto loro, quindi è super divertente e pericolosissimo, avevi ragione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Votiamo Mara? Secondo me sì. Fede? Sì. Elio? Sì. Agostina te ne torni letteralmente in trolli in Argentina con quattro sì. Grazie mille. E' eccezionale Agostina. Brava, eh? Brava. Fortissima.